avanti buongiorno allora oggi abbiamo qui c'è l'acqua per la pasta qui abbiamo atturrato un po di mollica mollica atturrata che diciamo la mollica fatta con il prezzemolo con un coccino d'olio un pochettino ci abbiamo messo il taglietto tagliato piccolo 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 e tutte queste cose e poi l'abbiamo passata in padella l'abbiamo la mollica insomma mollica di pane l'abbiamo rivelata nella pentola e l'abbiamo fatta diventare come la fabbia del deserto del gara allora come dicevo questa la metteremo di sopra tipo ok e poi abbiamo preparato questa mattina un bellissimo sughetto che mi viene difficile farvelo vedere ma ci proveremo un bellissimo sughetto di spezzatino di carne carne e carne normale ma carne di vaccino ecco come lo chiamate voi carne e quindi oggi facciamo pasta con la carne con lo spezzatino di carne e di sopra ci metteremo la mollica atturrata e facciamola ne 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 buon pranzo a tutti ci vediamo alla prossima questo è il nostro pranzo della domenica ciao ancora ciao ciao buon pranzo a tutti e buona domenica ciao ciao ancora ciao 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 ciao